e terza al lago di viverone sono le nove e mezza di sera direi vedi di sottofondo c'è questo questo questa se non si vede ti ammazzo pronto dovrà saltare quella catena se non si vede ti ammazzo vi assicuro io che è molto alta si vede si vede vai si vede non ti fa male se cosa bravo si puoi metterlo in ratti se vuoi metterlo in ratti se vuoi metterlo in ratti